Ora si registrerà la conferenza. Questa sera è un tema super 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 hot direi, perciò noi adesso come nostra tradizione interagiremo sulla chat per le domande di carattere tecnico, per intenderci se avete problemi nel firmare, se avete qualche domanda relativa proprio all'andamento del seminario. Per quello che riguarda invece i vostri quesiti più specifici su Erasmus e su E-Twinning e sui temi che via via i nostri relatori tratteranno, io appena Luisella Mori inizierà la propria relazione metterò un link a cui vi prego di lasciare le vostre domande. La sessione delle domande sarà in coda alla chiacchierata di Luisella e perciò vi pregherei quindi di non utilizzare la chat per domande relative Erasmus e E-Twinning, ma di utilizzare il foglio, il link che vi metterò a breve online. Io direi di iniziare, allora benvenuti a tutti, naturalmente noi siamo qui di nuovo con voi, con questi tre webinar del mese di febbraio. Il primo con cui apriamo questa serie invernale quasi primaverile direi, perlomeno qui a Grosseto oggi è una giornata fantastica di sole e anche di caldo, è dedicato a The Twinning in Erasmus Plus, è con noi Luisella Mori che è una docente di lingua e cultura inglese presso l'Istituto Tecnico Enrico Fermi di Pontedera. Presentare Luisella è sempre una cosa incredibilmente piacevole, sia perché ovviamente è un'amica ma perché è una collega veramente di eccezionale valore. Luisella in campo, in ambito Erasmus Plus è un'autorità assoluta, fammelo dire perché insomma te sei lì che sorridi ma è così. Luisella è non solo ovviamente progettista Erasmus, coordinatore Erasmus, ma è anche valutatrice Erasmus, tutor dei valutatori, ambasciatore Erasmus, chi più ne ha più ne mette naturalmente è ambasciatrice o ambasciatore. E Twinning fa parte del gruppo toscano che io assieme a Daniela Cecchi che è con noi in linea diciamo coordino, io nella veste di referente pedagogico regionale e Daniela Cecchi come, la dottoressa Daniela Cecchi ovviamente come referente istituzionale presso l'ufficio scolastico regionale. Tutti quanti, vi do due o tre proprio pillole di informazioni, formiamo assieme a tutti gli altri ambasciatori Twinning, tra l'altro alcuni di questi saranno con noi al prossimo webinar e all'ultimo dei tre webinar, partecipano all'organizzazione di un piano di formazione biennale, quello di quest'anno degli ultimi due anni si concluderà con la fine di febbraio, noi abbiamo fatto nonostante la pandemia devo dire un programma veramente nutrito di eventi, soprattutto online certamente, abbiamo però ripreso quest'inverno, quest'autunno più che altro a fare degli eventi in presenza e poi adesso con questi tre webinar chiudiamo il biennio, diciamo quest'oggi parliamo di Twinning in Erasmus, abbiamo due scadenze importanti, io cederei senz'altro la parola a Luisella ricordandovi di usare il link che a breve vi metterò per le vostre domande, d'accordo? Sì, allora buonasera a tutti, sì effettivamente è un periodo molto hot per Erasmus perché diciamo a breve abbiamo due scadenze importanti per chi, per quelle scuole che vogliano fare, proporre una candidatura per un progetto nell'azione chiave 1 e nell'azione chiave 2, adesso eccoci, qua vi ho messo diciamo una slide generale sul nuovo programma Erasmus che arriverà fino a 2027, 2021-2027, è suddiviso in tre chiavi come anche lo era nel settennato precedente, però ci sono alcune importanti novità tra cui diciamo la più importante è che l'azione chiave 1 fino al 2021 riguardava solamente ed esclusivamente la mobilità dello staff, quindi una scuola che proponesse una candidatura per un progetto azione chiave 1, si proponeva di far, di organizzare mobilità per l'apprendimento solamente per docenti, persone aleate e o dirigenti, mentre dal 2021 anche le mobilità degli alunni rientrano nell'azione chiave 1 e quindi diciamo l'azione chiave 1 diventa molto più corposa. Altra novità è che è stato introdotto l'accreditamento anche per le scuole, mentre fino al 2021 erano solamente le università, insomma gli istituti di istruzione superiore di livello universitario che potevano accreditarsi. Oggi non parleremo dell'accreditamento perché l'accreditamento è un bando annuale che scade a ottobre, quindi diciamo manca ancora un bel po' per la nuova scadenza, parleremo dei bandi che scadono tra febbraio e marzo per i cosiddetti progetti su piccola scala sia di azione chiave 1 che azione chiave 2. Poi magari se avete qualche dubbio ne parliamo poi a livello, nella sessione delle domande. L'azione chiave 3 non ci interessa come scuole perché è un'azione che riguarda diciamo gli organismi a supporto delle politiche europee, quindi non ci riguarda. Un'altra delle novità importanti della struttura del nuovo piano Erasmus è che le priorità che un po' c'erano sempre state, l'inclusione, l'innovazione digitale, la sostenibilità, c'erano sempre state, però adesso sono diventate veramente importantissime. Infatti qualsiasi candidatura voi presentiate per un progetto Erasmus vi verrà chiesto e richiesto come assicurerete di la realizzazione, diciamo di portare avanti queste tre priorità. Magari poi entriamo anche un po' più nel dettaglio su queste priorità. Quindi iniziamo parlando un pochino, diciamo le scadenze per chi non le sapesse sono molto a ridosso, quindi per quanto riguarda l'azione chiave 1 che ricordo è quella per le mobilità che sono sia dello staff sia degli alunni, la scadenza è il 23 febbraio per i cosiddetti progetti di mobilità di breve durata, che poi vi spiegherò cosa sono, mentre per i partenariati di piccola scala, quindi i partenariati tra scuole, quelli che un tempo erano i progetti Comenius e poi sono diventati anch'essi i progetti Erasmus, la scadenza, quella più vicina, è il 23 marzo, mentre poi c'è un'altra scadenza e anche questa è una novità, il 4 ottobre. Vi ricordo che tutte le scadenze sono a mezzogiorno del giorno della scadenza, quindi significa che se io invio la domanda il 23 marzo nel pomeriggio la mia domanda non verrà presa in considerazione perché la scadenza è sempre alle 12 dell'ora di Bruxelles. Quindi parliamo intanto dell'azione chiave 1, quella della mobilità cosiddetta individuale. Chi è accreditato, diciamo che ha l'accesso a questa azione chiave 1, alla mobilità, per tutti e sette gli anni. Chi invece, se un istituto, una scuola non è accreditata, può fare una candidatura per questa mobilità di breve termine che scade appunto il 23 febbraio. Inoltre può cercare di entrare a far parte di un concorso consorzio già accreditato, cioè potrebbe in teoria informarsi dell'esistenza di eventuali consorzi sul territorio e provare a entrare a far parte. Poi magari questo si può vedere meglio con degli esempi. Oppure, se intanto si vuole iniziare un percorso di internazionalizzazione, ci si può anche rendere disponibili per ospitare staff e alunni di scuole europee, quindi agire come organismo di accoglienza. Adesso parliamo un po' più a fondo di questi cosiddetti progetti di mobilità di breve termine che hanno la sigla KA-122. Chi è 1 sta per azione chiave 1, 22 è il codice che si riferisce a questi progetti di mobilità di breve termine. Si chiamano così perché sono progetti che possono avere una durata abbastanza limitata, fino a un massimo, diciamo, di 18 mesi. Quindi si differenziano dall'accreditamento che invece ha una durata fino alla fine del settennato. Quindi non breve termine perché prevedono delle mobilità solamente brevi, ma breve termine perché un progetto, una candidatura, può presentare un programma di mobilità che si può svolgere in un periodo fino a un massimo di 18 mesi. Le tipologie di mobilità, come vi ho già detto, sono quelle dello staff, degli alunni e sono state reintrodotte anche le visite preparatorie. Per quanto riguarda le mobilità dello staff, non ci sono novità rispetto all'azione chiave 1 del settennato precedente. Quindi lo staff, ovvero docenti, personale ATA e dirigenti, possono partire per fare un'esperienza di job shadowing, quindi trovare una scuola che li accolga e osservare come la scuola è organizzata, come vengono svolte le lezioni, o anche in relazione a una particolare tematica, che può essere il TEM, può essere il CLIL, può essere l'educazione civica, qualsiasi cosa. Inoltre, sempre lo staff può partecipare a corsi di formazione, quindi può chiedere di andare a svolgere un corso di formazione all'estero, oppure può fare attività di docenza. Quest'ultima opzione, diciamo, non è molto diffusa, perché è difficile che un docente possa avere l'autorizzazione da parte della scuola di appartenenza per andare via per un periodo di docenza all'estero, a meno che non si svolga in un periodo in cui magari nelle scuole italiane non c'è attività didattica. Per quanto riguarda invece la mobilità alunni, poi lo vedremo più nel dettaglio, ci sono tre tipologie di mobilità, mobilità di gruppo, mobilità individuale breve, e mobilità individuale di lunga durata. Una cosa importantissima è che gli alunni non possono partecipare a corsi di formazione, questo è un errore che si trova a volte nelle candidature, quando andiamo a valutarle. Cioè io non posso utilizzare i fondi Erasmus per portare gli alunni ad esempio a fare un soggiorno studio linguistico, pagando il corso presso una scuola privata, non posso fargli fare un corso a pagamento presso un ente di formazione. La mobilità degli alunni è una mobilità presso una scuola partner, quindi bisogna trovare una scuola disponibile ad accogliere gli alunni o per un periodo più breve o per un periodo più lungo, però deve essere una scuola, non un corso di formazione. Quindi i cosiddetti soggiorni studio, vacanze studio, non si possono finanziare con i progetti Erasmus. L'ultima tipologia di mobilità sono le visite preparatorie, queste visite preparatorie sono delle mobilità in cui di solito un docente va a visitare una scuola straniera per preparare un'ulteriore mobilità, che può essere ad esempio una mobilità alunni di lunga durata. Cioè se io prevedo di inviare alcuni alunni del mio istituto per un periodo piuttosto lungo presso un istituto straniero è possibile prevedere una visita preparatoria di uno o più docenti che vanno a vedere la scuola, si accordano sul programma formativo e così via. Inoltre si possono invitare esperti dall'estero oppure si possono ospitare docenti stranieri o tirocinanti stranieri, cioè magari studenti universitari che verso la fine del percorso universitario vogliono venire a fare un'esperienza di tirocinio presso una scuola italiana. Può essere ad esempio un docente francese che sta studiando per diventare docente di storia ad esempio potrebbe essere invitato in una scuola italiana a fare da tirocinante affiancando degli insegnanti di storia oppure un insegnante, un docente turco, ungherese che vuole diventare docente di inglese potrebbe venire a fare un'esperienza di tirocinio e affiancarsi agli insegnanti di inglese della scuola. Per quanto riguarda le mobilità degli alunni che sono la più grande novità dell'azione chiave 1 diciamo che le cosiddette mobilità di gruppo sono quelle che già si facevano anche nell'ambito dei progetti Erasmus o i classici scambi cioè si tratta di organizzare un gruppetto di studenti della stessa scuola che va presso una scuola partner per un periodo che può essere da 2 a 30 giorni almeno 2 alunni della stessa scuola perché se no non è un gruppo già 2 sono pochi però magari di solito si fa un gruppetto da 5 alunni, 10 anche 15 si va magari una settimana presso una scuola partner e poi di solito i studenti della scuola partner probabilmente verranno presso la nostra scuola. la mobilità individuale invece ha una durata minima più lunga perché il minimo sono 10 giorni e può essere di breve termine quindi fino a un mese fino a 29 giorni oppure di lungo termine cioè da 30 giorni a un anno scolastico intero quindi teoricamente le scuole potrebbero ottenere un finanziamento Erasmus per organizzare il classico anno all'estero per un gruppetto piccolo per due o tre alunni del proprio istituto si tratta di un grosso lavoro perché ovviamente va trovata una scuola partner che sia disponibile ad accogliere per un lungo periodo bisogna organizzare il programma di studio eccetera però si può fare anche una via di mezzo ad esempio un paio di anni fa prima della pandemia l'USR Toscana ha organizzato delle mobilità di un mese di alcuni studenti delle scuole toscane presso delle scuole della zona di Bordeaux è stato nella scuola dove insegno hanno partecipato tre studentesse è stata un'esperienza veramente molto bella per loro molto arricchente e poi quando sono tornate da questo mese all'estero abbiamo noi a nostra volta ospitato tre studentesse francesi per un mese quindi ci vuole un po' di accortezza ad esempio nel nostro caso ora non era nemmeno un periodo lunghissimo però ad esempio le studentesse italiane sono partite il primo di settembre o a fine agosto addirittura quindi hanno perso solamente due settimane di lezioni della scuola nostra in Italia perché in Francia la scuola inizia prima le studentesse francesi sono venute da noi nel periodo di ottobre inizio novembre in cui a loro volta loro avevano 15 giorni di vacanza quindi a loro volta hanno perso solo due settimane che poi perso è l'espressione sbagliata perché in queste situazioni si guadagna perché l'esperienza è veramente molto bella e molto significativa per uno studente di quell'età tra l'altro l'agenzia nazionale indica che gestisce in Italia i programmi Erasmus per le scuole dice sempre di dare un occhio di riguardo a quelle candidature che prevedono mobilità di lunga durata perché sono mobilità che effettivamente hanno un impatto molto forte sia sulla persona che la svolge ma anche poi su tutto l'istituto perché anche accogliere a nostra volta degli studenti di un altro paese ha un impatto forte anche sugli studenti che non sono partiti anche sui docenti eccetera e poi un'altra tipologia di mobilità che può riguardare tutte e tre le mobilità che abbiamo elencato è la cosiddetta mobilità blended cioè anche questo è un valore aggiunto del progetto prevedere che le attività che si svolgono in mobilità fisica siano precedute e seguite anche da attività svolte online quindi magari prevedere prima di una mobilità fisica alcuni incontri online tra gli studenti che partiranno o anche i docenti che andranno in job shadowing con i colleghi stranieri con la classe di accoglienza oppure anche al rientro prevedere ulteriori contatti tra le classi coinvolte ad esempio quindi è sempre un'opportunità in più per arricchire la mobilità un altro aspetto che è evidente nelle candidature Erasmus è il fatto che l'istituto che si propone per la candidatura quindi che fa domanda per un progetto per un finanziamento Erasmus si impegna ad aderire ai cosiddetti principi di qualità Erasmus anche questa è un po' una novità cioè come vi dicevo prima quelli che prima erano priorità già nel settennato precedente adesso sono diventate un obbligo diciamo nel momento in cui il dirigente o la dirigente firma la dichiarazione d'onore e invia la candidatura si impegna a rispettare questi principi e questi principi sono l'inclusione quindi il fatto di spiegare come selezioneremo i docenti e gli studenti per le mobilità garantendo la massima inclusività quindi ad esempio prevedere che non siano solo gli studenti più bravi o quelli con i voti più alti che partiranno ma prevedere dei meccanismi che permettano di far partire in mobilità anche studenti che possano avere dei bisogni speciali dei DSA o anche un background familiare più diciamo con minore opportunità studenti magari stranieri o comunque immigrati di recente in Italia e così via quindi prevedere di assicurare l'inclusione di tutte le tipologie degli studenti ma anche dello staff il digitale quindi impegnarsi ad utilizzare il digitale in tutte le fasi del progetto e anche a promuovere l'apprendimento digitale sia per lo staff che anche per gli studenti e anche in questo caso il discorso che facevamo prima sulla possibilità di rendere le mobilità mobilità blended ritorna in questa priorità del digitale quindi e qui ovviamente emerge come elemento di qualità anche l'utilizzo della piattaforma eTwinning terza priorità la sostenibilità che è sostenibilità ambientale principalmente infatti tra le varie opzioni per il trasporto è stata introdotta la possibilità di richiedere una cosiddetta mobilità verde quindi se si organizzano delle mobilità in luoghi raggiungibili anche ad esempio con mezzi come treno o altri mezzi è fortemente consigliato di fare la scelta per un mezzo di trasporto quindi più sostenibile rispetto all'aereo e addirittura all'interno del modulo di candidatura se si scelgono le mobilità verdi c'è un sostegno economico maggiore e si possono inserire più giorni di viaggio non solo due giorni di viaggio ma magari anche tre o quattro un altro principio di qualità al quale bisogna assicurare che bisogna garantire la buona gestione e la titolarità quindi quando una scuola presenta la candidatura ma anche poi se la candidatura viene approvata quando la scuola firma la convenzione con l'agenzia nazionale deve garantire di mantenere la titolarità del progetto ovvero non è ammesso dare in gestione il proprio progetto a un'agenzia esterna come a volte è successo in passato quindi oggi insomma attualmente le scuole che ottengono un finanziamento erasmus ricevono anche da parte dell'agenzia nazionale una sorta di avvertimento sul fatto che non possono diciamo dare la gestione del progetto a un'agenzia esterna in modo da non occuparsene personalmente quindi deve essere la scuola ad avere un team che si occupa di gestire il progetto e inoltre l'impegno alla condivisione dei risultati quindi qualsiasi prodotto qualsiasi documento qualsiasi attività che venga svolta grazie a un finanziamento erasmus deve essere condivisa con tutti quindi non ci può essere ad esempio se nell'ambito di una mobilità si sviluppano delle unità didattiche dei materiali didattici oppure se si creano dei documenti che possono essere utili per magari realizzare ulteriori progetti devono essere condivisi quindi non possono essere protetti dal diritto d'autore e infatti alla fine del progetto viene richiesto all'istituto capofila di pubblicare i risultati nella piattaforma dei risultati erasmus e l'ultimo principio di qualità che bisogna garantire è la qualità e il supporto ai partecipanti quindi l'impegno a assicurare la sicurezza dei partecipanti ad esempio ultimamente da quando c'è il problema della pandemia è importante stipulare delle coperture assicurative prima della mobilità in modo che vengano coperte anche tutte le casistiche legate al covid ma anche preparare partecipanti prima della partenza soprattutto se io organizzo una mobilità lunga per gli alunni prepararli a cosa le aspetterà ad affrontare diciamo il cosiddetto shock culturale dare informazioni su come funzioneranno le cose e anche durante la mobilità prevedere dei tutor che possano seguire le persone in mobilità e così via per quanto riguarda invece l'azione chiave 2 quella che la cui scadenza attualmente è il 23 marzo quindi c'è un po' più di tempo si tratta dei partenariati quindi rispetto al settennato precedente non ci sono grosse novità particolari i partenariati si suddividono in partenariati su piccola scala e partenariati per la cooperazione di solito le scuole sono interessate ai cosiddetti partenariati su piccola scala che sono scambi tra scuole un po' come quelli che un tempo si chiamavano progetti Comenius nel caso dei progetti dell'azione chiave 2 è ancora più importante l'utilizzo di twinning per le scuole perché ovviamente trattandosi di progetti in cui due o più scuole partner di vari paesi europei collaborano per un periodo e diciamo organizzano sia anche delle mobilità però anche altre attività su una tematica di loro scelta è importante che la collaborazione avvenga in uno spazio sicuro in uno spazio in cui tutte le scuole possono iscrivere gli studenti in cui si possano fare tutte le varie attività virtuali previste anche in questo caso le priorità sono più o meno le stesse quindi inclusione e diversità transizione digitale sostenibilità ambientale cambiamento climatico e anche partecipazione alla vita democratica quindi scegliere delle tematiche legate a queste priorità è sicuramente una scelta giusta azzeccata se volete iniziare a preparare un partenariato per quanto riguarda i partenariati cosiddetti su piccola scala anch'essi sono riservati alle scuole non accreditate quindi e sono diciamo pensati per chi si vuole affacciare alla progettualità Erasmus quindi anche per muovere i primi passi nella cooperazione europea per i cosiddetti newcomer cioè per le scuole che non hanno particolare esperienza nella progettualità Erasmus la composizione del partenariato deve prevedere almeno due scuole di due diversi paesi europei minimo due poi possono essere anche tre quattro cinque la durata di un partenariato va da un minimo di sei mesi a un massimo di ventiquattro mesi ovviamente sei mesi è un periodo un pochino breve per un partenariato quindi io consiglierei di pensare a una durata un pochino più lunga solitamente vengono fatti di ventiquattro mesi e il finanziamento è a somma fissa quindi si può chiedere un progetto da 30.000 euro o da 60.000 euro e le scadenze come abbiamo detto sono due all'anno la prossima è il 23 marzo poi ce ne sarà anche una a ottobre diciamo poi velocemente poi magari passiamo anche alle domande che forse saranno tante perché ho detto anche tante cose tutte insieme i twinning che sicuramente molto scusate sentivo qualcosa sì chiederei sono Simona chiederei per favore a chi si è unito adesso di chiudere l'audio per cortesia perché c'è un collega il cui audio non riesco a chiudere chiedo cortesemente di chiudere l'audio se no c'è il ritorno in cuffia e non si sente poi niente scusa Luisella di niente no grazie ok quindi i twinning diciamo entra a far fa parte del progetto Erasmus ecco finanziato da Erasmus ed è comunque uno strumento uno strumento utilissimo sia nei progetti di mobilitazione chiave 1 e ancora di più partenariati come abbiamo già detto probabilmente molti di voi lo conoscono già però ecco vi segnalo che nelle nei moduli di candidatura Erasmus molto spesso c'è proprio la domanda del se volete se vorrete diciamo fare in modo che le mobilità siano blended quindi prevedano anche degli scambi virtuali e come e se intenderete utilizzare alcuni strumenti che l'Unione Europea mette a nostra disposizione uno di questi è appunto i twinning qua vi ho messo un link poi magari le slide le manderò a Simona un link a un librettino che è disponibile sia in inglese sia in francese che dà delle indicazioni utili dei consigli su come utilizzare anche i twinning nell'ambito dell'azione chiave 1 e azione chiave 2 di Erasmus ma sul sito comunque i twinning troverete anche tantissimi altri pdf scaricabili con esempi di progetti già realizzati best practice e così via un'altra cosa importante è leggere bene la guida del programma Erasmus dove che è un bel librettone un bel pdf che vi potete scaricare dal sito Erasmus ma anche lì troverete tantissimi consigli tantissimi esempi oltre proprio a tutte le regole del progetto del programma i twinning è la porta diciamo principale di accesso a Erasmus proprio perché permette di entrare in contatto con tantissime scuole europee con docenti permette di iniziare a lavorare magari su su alcune tematiche poi da lì iniziare a pensare a una progettualità Erasmus è utilissimo perché ha un forum di ricerca partner quindi si può si possono cercare delle persone ad esempio utilizzando anche i filtri se io cerco un partner in un particolare paese europeo posso impostare il filtro in modo da cercarlo solo in quel paese lì oppure posso impostare un filtro e cercare solamente i docenti di una determinata materia mettiamo io voglio fare un progetto sulla chimica posso cercare solo docenti di chimica e poi scrivere loro e cercare di mettermi in contatto con loro inoltre c'è anche un forum chiamato forum dei partner in cui si possono sia trovare messaggi di altri docenti che cercano partner e possono cercare partner sia per progetti twinning che per erasmus e dove anche voi potete pubblicare un messaggio se cercate partner e questi forum sono suddivisi sia per livello scolastico cioè a seconda dell'età degli alunni sia per tipologia di progetto quindi c'è un forum i twinning per le scuole dell'infanzia c'è un forum per i twinning per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e anche un forum per chi insegna con alunni più grandi e lo stesso per Erasmus quindi sono sei forum in cui potete cercare o leggere i messaggi che altri docenti hanno messo quindi è molto utile i twinning è anche importante perché non è solo un modo di trovare partner ma anche un modo per sviluppare il progetto stesso perché una volta che ho ottenuto un finanziamento per un progetto Erasmus posso aprire un twin space con le scuole partner e utilizzare il twin space per tutta una serie di attività tra cui ad esempio il conoscersi scambiare le proprie opinioni all'interno del forum cioè ci sono tantissime attività che si possono fare ad esempio qui vi ho messo alcuni esempi di cose che si possono fare se nell'ambito di un progetto K1 in cui c'è la mobilità si potrebbe ad esempio creare un gruppo e twinning per condividere contenuti della formazione e favorire un maggiore impatto sulla scuola oppure creare un progetto e twinning con le scuole partner nel caso in cui facciano la mobilità alunni nel caso ovviamente del partenariato quindi dell'azione chiave 2 si possono si può utilizzare il twin space sia per raccogliere e condividere i materiali cosa che mi renderà poi più facile la rendicontazione del progetto sia organizzare attività collaborative a distanza utilizzando la chat il forum la twin board i sondaggi e così via quindi le attività da fare possibili sono tantissime in uno spazio sicuro perché come ben sapete sui twinning si possono iscrivere solamente i docenti e sono i docenti stessi che possono iscrivere gli alunni quindi si tratta di uno spazio che dà tutte le garanzie di sicurezza ora io non so Simona cosa vogliamo fare vogliamo vedere se ci sono domande sì ci sono diverse domande Luisella quindi se vuoi possiamo passare alle domande e magari se vuoi se tu prova a vedere se vedi il foglio che ho condiviso altrimenti lo posso condividere io forse è più pratico lo condivido io sì forse se lo condividi te è meglio sì sì vai poi magari se qualcuno se volete vi faccio anche vedere dove si trovano i moduli di domanda come cioè non so poi cosa sia più interessante diciamo per i partecipanti allora intanto andiamo sul foglio delle domande dovrebbe essere visibile sì tu riesci anche a leggere oppure vuoi che ti zoomi un po' aspetta se zoomi un po' prova a vedere così al 150 dovrebbe essere ok allora io farei così sì magari tu intanto dai un'occhiata inizierei per ordine così se così intanto tu rifletti e anche gli altri magari sentono la domanda a parte è visibile quindi la prima domanda è se possono partecipare anche le scuole paritarie sì sì cioè nei progetti Erasmus sì sì anche scuole private sì sì possono partecipare assolutamente sì ok la seconda domanda è se per il K121 non occorre fare un nuovo progetto ma vale quello presentato nella candidatura di accreditamento dunque per il cioè se l'accreditamento è stato concesso non occorre fare un nuovo progetto no cioè forse le prime due domande no la seconda e la terza più o meno sono la stessa cosa allora se una scuola ha ottenuto l'accreditamento non può non solo non deve presentare un nuovo progetto ma non lo può presentare i progetti azione chiave 1 di cui abbiamo parlato quelli di cosiddetti di breve durata sono riservati a chi non ha l'accreditamento proprio per dare l'opportunità ai cosiddetti newcomer alle scuole con meno esperienza alle scuole non accreditate di iniziare a fare Erasmus di iniziare a entrare in Erasmus di iniziare a internazionalizzare la scuola quindi chi ha l'accreditamento non deve fare nuovi progetti fino al 2027 deve fare solo la richiesta di budget in questi giorni le scuole che avevano fatto domanda di accreditamento a ottobre del 2021 hanno ricevuto la comunicazione e devono fare la richiesta di budget anche se non è ancora definitivo di solito chi l'ha ricevuto vuol dire che avrà l'accreditamento quindi deve fare la richiesta di budget poi per quanto riguarda l'ultimo come si rintracciano le scuole partner sì allora secondo me il modo migliore per rintracciare le scuole partner è iscriversi ai twinning iniziare a navigare sul sito itwinning.net quindi itwinning live perché in Italia itwinning ha due siti ha un sito punto it che diciamo è quello che serve per diffondere notizie su eventuali seminari di formazione quello in cui si mette c'è una vetrina delle buone pratiche eccetera e poi c'è un itwinning.net che è la piattaforma europea quella dove si fanno le attività vere e proprie con gli studenti e con i docenti quindi quindi la cosa migliore per trovare dei partner è quella di iscriversi ai twinning e poi di utilizzare il forum per o rispondere a degli annunci messi da altri docenti oppure per mettere un annuncio per cercare partner naturalmente è più facile trovare partner se siamo disponibili a nostra volta ad accogliere nel nostro istituto o personale della scuola straniera o alunni quindi di solito si dà anche la disponibilità all'accoglienza per quanto riguarda l'età degli studenti per le mobilità in gruppo non c'è nessun tipo di limite quindi possono farla anche gli studenti della scuola primaria perché nella mobilità di gruppo che è quella che può durare anche solo due giorni è obbligatoria la presenza di un accompagnatore o anche due accompagnatori quindi nella mobilità di gruppo c'è sempre un docente che parte insieme agli studenti e non c'è un limite di età mentre nella mobilità cosiddetta individuale il limite è 14 anni quindi è una mobilità che riguarda le scuole secondarie di secondo grado perché nella mobilità individuale sia che sia una mobilità breve fino a 29 giorni sia che si tratti di una mobilità lunga gli studenti possono e devono partire da soli senza il docente poi naturalmente la scuola può anche dire ok quando partono va un docente per i primi giorni però poi rimangono da soli quindi è una mobilità riservata dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado cosa si intende per newcomers allora nel modello Erasmus quindi questa domanda è se una scuola ha partecipato a un partenariato strategico ma non ha mai fatto un programma di mobilità staff o docenti allora per newcomer si intende diciamo una scuola che non ha mai fatto progetti quindi una scuola che ha partecipato a un partenariato strategico nel 2016 2018 per l'azione chiave 1 di fatto è un newcomer non ha mai fatto mobilità dello staff quindi sono sicuramente considerati newcomer e si può prevedere di fare prima un progetto K122 solo per lo staff e poi un ulteriore progetto per gli alunni ma si può anche mettere insieme nella stessa candidatura ed è una cosa che io consiglierei sia la mobilità dello staff sia quella degli alunni nella valutazione non si è penalizzati però diciamo che la mobilità degli alunni viene valorizzata perché ha un grosso impatto quindi diciamo se ce la fate a pensare a un progetto che oltre alla mobilità docenti prevede anche la mobilità degli alunni sicuramente è una è una cosa diciamo valorizzata però se il progetto riguarda solo i docenti non viene penalizzato se si tratta di un buon progetto ad esempio è importante siccome nel progetto nella candidatura vengono chieste quali sono le priorità e gli obiettivi dell'istituzione scolastica è importante nella candidatura fare anche riferimento ai documenti istituzionali ad esempio al piano di miglioramento al RAV al PTOF se io metto come priorità ad esempio lo sviluppo delle competenze digitali e poi invece nel piano di miglioramento della scuola c'è scritto tutta un'altra cosa perché magari la scuola ha già un ottimo livello di competenze digitali ma ha deciso di di inserire nel piano di miglioramento un altro obiettivo ovviamente c'è un po' di incongruenza cioè è importante che la candidatura si focalizzi veramente su quelle sui bisogni reali dell'istituzione scolastica e dell'utenza quindi dello staff e degli alunni e sia coerente con con i documenti istituzionali che si possono anche allegare alla candidatura allora come si compila il modulo di presentazione progetto Erasmus è possibile vedere un esempio di domanda allora il modulo è un modulo aspettate che vediamo se riesco vi dovrei condividere lo schermo vediamo un po' allora allora aspetta forse mi levo io mi levo io la lascio in fondo se no o no se no vi condivido lo schermo allora però non ci riesco vai di nuovo sul vuoi mandarmi il link lo condivido io allora ti mando il link in chat come vuoi se vuoi me lo puoi mandare in chat su whatsapp da me allora lo metto in chat perché ora non me lo dà più attivo vediamo lo metto in chat così anche chi ci volesse andare ci va allora qua su questa pagina del sito erasmus plus punto it italiano quindi c'è un sito erasmus che è www.erasmus plus punto it trovate tutto e qui ci trovate anche ora se arrivo ce lo fa vedere ecco questa pagina qua ci trovate come fare domanda se scorri un attimino giù c'è un bottone rosso ancora un po' più giù ecco allora qua c'è ferma lì dopo azione ancora un pochino più giù siamo arrivati ah no allora aspetta dunque azioni gestite dall'agenzia nazionale qui allora vi vi dice per accedere alla candidatura andate su eulogin che è un portale europeo dove trovate tutti i servizi gestiti dalla commissione europea ora non so se tu Simona hai un account eulogin vi fa scaricare vi fa scaricare la guida e vi fa vedere i vari moduli di candidatura provo un po' a cliccare su moduli di candidatura web form sotto la fascia rossa la terza giusta sì sì ecco qua eccolo allora qua questo è il portale dove trovate i moduli di candidatura come vedete sono divisi per per settore quindi se voi fate una candidatura relativa al mondo scuola school education dovete cliccare la vedete che c'è scritto vedete open calls vedete le i bandi aperti se siate un istituto di secondo grado di tipo professionale o tecnico vi potrebbero interessare anche i cosiddetti bandi vet quelli la terza da sinistra quindi vocational education and training perché anche nell'ambito vet c'è la possibilità di fare domanda per progetti azione chiave 1 che possono prevedere mobilità di tipo professionalizzante tipo fare il PCTO all'estero ad esempio far fare agli alunni il PCTO all'estero far fare dell'esperienza in azienda prova un pochino a cliccare su school education ok school education vi fa vedere i vari bandi attivi e quello che scade il 23 febbraio ad esempio vi dice giorni rimanenti vi dice quanti giorni mancano alla scadenza dei vari bandi quello accreditation come vedete ormai è il 19 10 quindi quelli di cui noi abbiamo parlato short term projects for mobility of learners and staff in school education quindi il KA 122 mancano 12 giorni cliccando sul bottone apply si apre il modulo di candidatura ora in questo caso credo che chieda il login si esatto io da qui sono sono diciamo lo vedrete vi potete chiunque si può fare un account entrare e a quel punto vedere il modulo di candidatura nella candidatura va inserito il numero identificativo dell'organizzazione quello che prima si chiamava PIC e ora si chiama OID quindi se la scuola non ce l'ha lo deve fare e lo può fare in questa stessa piattaforma l'iscrizione della scuola in modo che poi la scuola abbia questo numero identificativo se la scuola ha aderito a due consorsi dipende che consorsi sono se sono consorsi scuola per il K1 direi che può aspettare intanto approfittare delle mobilità però potrebbe fare una domanda per un K2 per un partenariato quella si può fare quella che scade il 23 marzo poi non so Simona se vuoi tornare alle domande torno subito alle domande torno subito alle domande vi invito a lasciare domande sul sul programma sulle mobilità sulle scadenze sui twinning anche sul foglio che stiamo scorrendo ora perché è più facile poi gestire le domande approfitto Luisella per dare un chiarimento in merito all'iscrizione alla piattaforma twinning qualcuno chiedeva in chat se si debba essere un'iscrizione della scuola o un'iscrizione individuale del docente l'iscrizione è individuale del docente o della docente si chiede soltanto di indicare la scuola chiaramente perché poi si possa l'unità nazionale twinning al momento dell'approvazione possa poi effettuare effettivamente una verifica rispetto a quello che si dichiara e poi si è diciamo operativi da subito la cosa che però ci sentiamo sempre di consigliare dal momento in cui poi si dovesse diventare attivi in un progetto quindi si dovesse iniziare a lavorare con le classi su un progetto e twinning uno più progetti è sempre bene che e twinning venga inserito nel toff perché diventa diciamo un'azione di sistema potrebbe diventare un'azione di sistema e la ricaduta potrebbe essere una ricaduta virtuosa su più docenti e su più classi anziché su un singolo docente su una singola docente ma diciamo che non uno degli aspetti veramente entusiasmanti di twinning è la flessibilità di questo di questo approccio per cui non c'è bisogno di diciamo accreditamenti particolari né documentazioni particolari né progettazione particolari ecco perché si tratta di un'azione diciamo anche molto più flessibile e perciò non anche diciamo vantaggiosa da questo punto di vista sì esatto ok poi un'altra domanda allora una scuola turca incontrate i twinning ci ha chiesto di ospitare gli studenti come possiamo accogliere gli studenti in modo migliore allora intanto dovete parlare con il partner turco però di solito per gli studenti visto che ehm diciamo la cifra prevista al giorno per uno studente in mobilità è molto più bassa di quella prevista per un docente più o meno è quasi la metà di solito per gli studenti si prevede l'ospitalità in famiglia quindi ehm vi dovete mettere d'accordo dovete iniziare a cercare famiglie ospitanti fra le famiglie dei vostri studenti io di solito faccio così a meno che voi non siate in un posto dove è possibile trovare magari un ostello o una qualche soluzione diciamo abbastanza economica però ecco la ricchezza dell'esperienza è sicuramente maggiore se si prevede l'ospitalità in famiglia quindi inizialmente se nella scuola non siamo non sono abituati magari non sarà facilissimo trovare tante famiglie ospitanti però si può iniziare con un piccolo gruppo e poi magari prevedere di andare anche voi in Turchia successivamente volendo però ecco è importante coinvolgere anche le famiglie quante scuole massimo possono partecipare in un'azione chiave due quindi in un partenariato diciamo che io non consiglierei di andare oltre le sei scuole perché comunque sennò poi diventa un po' difficile da gestire io ho avuto esperienza di partenariati con due sole scuole con tre con cinque con sei e con sette però quando si supera il numero sei diventa veramente difficile con sei scuole di solito si prevedono nell'arco di due anni scolastici tre mobilità per ogni anno per visitare tutte le scuole quindi già è abbastanza impegnativo cioè è bello è molto bello però impegnativo quindi diciamo io direi da da un minimo di due che ovviamente diventa uno quello che prima poteva essere uno scambio a un massimo di cinque sei perché insomma cinque sei sono già tante dunque come si fa a trovare un consorzio accreditato allora nel settore scuola i consorsi possono essere il capofila può essere o l'USR e l'USR Soscana è già accreditata e l'anno scorso ho mandato a tutte le scuole della regione l'invito a entrare a fare la richiesta diciamo la manifestazione di interesse per entrare nel consorzio per quest'anno per questo primo periodo ha selezionato 30 scuole 15 di primo grado 15 istituti comprensivi e 15 istituti di secondo grado e quindi nel 2023 siccome l'USR ha accreditamento fino al 2027 nel 2023 manderà una nuova richiesta e cambierà il consorzio quindi le prime 30 scuole che sono state selezionate per i primi due anni del consorzio usciranno dal consorzio e saranno selezionate altre scuole e così via fino al 2027 quindi state attenti quando arrivano le mail dall'USR in relazione a Erasmus ora fino al 2023 non arriverà però nel 2023 potrete candidarvi oppure può essere una scuola che decide di diventare capofila di un consorzio quindi vi potete mettere anche d'accordo con altre scuole magari del territorio per provare a fare una domanda insieme un altro modo è nell'ambito VET cercare delle agenzie degli organismi accreditati in ambito VET in Toscana ad esempio c'è Serinform a massa ce ne sono vari potete andare un po' a spulciare nel sito Erasmus nella parte VET negli esiti delle candidature andate a vedere la lista degli organismi che hanno ottenuto l'accreditamento VET e provate a contattarli allora se è già stata fatta la richiesta per un accreditamento è possibile posticipare la domanda per il K101 a ottobre oppure è necessario presentare ora la domanda allora chi ha l'accreditamento non deve fare domanda K121 deve solo fare la richiesta di budget quindi se non fate la richiesta di budget dentro il 23 non avrete nessun budget quindi non penso che sia consigliabile comunque richiederlo in modo da poter sfruttare l'accreditamento allora la scuola può presentare più domande nello stesso anno sì la scuola può presentare più domande quindi può presentare una domanda per un'azione chiave 1 e può presentare domanda per l'azione chiave 2 nel caso dell'azione chiave 2 potrebbe in teoria anche presentare più di una domanda perché potrebbe presentare domanda come capofila di un partenariato ma potete anche aderire a dei partenariati in cui il capofila una scuola di un altro paese europeo quindi volendo sì potete poi dovete valutare voi però se tutti i progetti venissero approvati se ce la fate a seguirli cioè se l'impegno richiesto non sia troppo troppo gravoso quindi io consiglierei diciamo di non esagerare magari potreste provare con un massimo di due partenariati perché insomma già è abbastanza un bel impegno il numero di alunni coinvolti può essere motivo di perdita del finanziamento per un K2 ad esempio se si hanno solo due scuole nel progetto con pochi studenti una trentina può funzionare sì una trentina può funzionare sì 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 certo Luisella ascolta scusa ti interrompo per dirti che c'è una collega che dice che aveva fatto la domanda in due parti cioè voleva sapere se il progetto Erasmus lo presenta solo la scuola capofila ah scusa mi l'ho saltata niente figurati la scuola capofila sì solamente la scuola capofila presenta il progetto sì sì quindi se c'è un partenariato di cinque scuole solo una quella che sarà capofila presenta il progetto sì assolutamente sì e poi allora esiste la possibilità di creare videochiamate sul Twin Space esiste però non è così semplice e non lo possono fare gli alunni cioè in realtà se siamo a scuola e quindi i docenti che sono iscritti ai Twinning che sono dentro il Twin Space prenotano uno slot quindi creano l'evento sì si può fare però diciamo oggigiorno io ho fatto diverse mobilità virtuali l'anno scorso quando il ministero aveva diciamo proibito anche giustamente forse le mobilità fisiche quindi in alcuni partenariati di cui la mia scuola è partner abbiamo sostituito le mobilità fisiche con mobilità virtuali abbiamo provato a fare la videochiamata sul Twin Space ma effettivamente non è così comodo come strumento anche perché in alcune scuole alcuni studenti si collegavano da casa quindi era un po' in problema quindi poi alla fine abbiamo utilizzato Teams però sì si possono utilizzare anche altri mezzi l'importante è trovare un accordo con le scuole partner per esempio ci sono alcune 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 regioni in Germania ma anche in Spagna che hanno proibito alcuni strumenti di videoconferenza o addirittura che hanno autorizzato solo uno strumento ad esempio noi abbiamo utilizzato Teams perché la scuola partner spagnola il suo governo regionale per le scuole autorizzava solo Teams quindi loro non potevano utilizzare Zoom o Meet quindi siamo stati noi gli altri partner ci siamo adattati diciamo alla loro esigenza perché avrebbero avuto problemi nell'utilizzare altri strumenti diciamo poi scusa se mi se dico quello che volevo dire è che la situazione delle videoconferenze delle dei contatti in modalità sincrona apre discorsi molto particolari rispetto all'utilizzo delle immagini della voce di minori che non siano per esempio come nel caso di ragazzi che sono da casa e ragazzi quindi non diciamo accompagnati sotto la supervisione dei docenti si apre tutto un mondo anche di responsabilità per cui è bene sempre secondo me concordo con quanto stava dicendo Luisella Mori concordare fra partner parlarsi spiegarsi capire bene quali siano le necessità e sempre sempre tenendo conto appunto il fatto che sicuramente anche nel caso di docenti di ragazzi grandi addirittura maggiorenni c'è sempre diciamo il problema dell'utilizzo delle immagini e soprattutto con piattaforme come zoom per esempio e anche meet perché poi insomma sì a meno che non abbiamo una piattaforma della scuola però diciamo che nessuno è andato a casa sua cioè da lei insomma stare con lei giusto per sapere scusate chiederei alla persona che sta parlando di chiudere il microfono grazie mille e di appunto è il problema è l'utilizzo di questo materiale ecco perché bisogna sempre considerare l'ambito delicato dell'utilizzo di immagini e voci di minori ecco quindi questo è un problema un problemino non da poco no infatti non è stata semplice l'organizzazione delle mobilità virtuali è stata abbastanza impegnativa proprio perché per questi fattori diciamo poi leggevo dunque su allora la domanda se se il progetto Erasmus lo presenta solo la scuola capofila forse io ho risposto in modo diciamo frettoloso allora nei partenariati sì la domanda la presenta solo la scuola capofila però se volete fare invece un'azione chiave 1 con mobilità reciproca alunni e staff ogni scuola deve presentare la sua domanda per l'azione chiave 1 perché ogni scuola riceve il finanziamento per la mobilità del proprio staff e dei propri alunni ok quindi in questo caso se vi organizzate con delle scuole partner tutte le scuole devono presentare domanda separatamente alla propria agenzia nazionale ora non so ci sono altre domande sì sì ce ne sono Luisella guarda ho girato pagina ho scorso ok ce ne sono varie una comprensione del progetto Erasmus cosa si intende per recognition of learning outcomes eh questa è un'ottima domanda molto molto importante perché infatti è una delle domande nella candidatura ed è uno degli aspetti di qualità di un progetto cioè il fatto di prevedere il riconoscimento delle competenze acquisite in mobilità è un fattore di grossa qualità all'interno di una candidatura di un progetto quindi non si tratta di un solo certificato di frequenza sì ovviamente sì il certificato di frequenza del corso strutturato è necessario è indispensabile o anche il certificato di frequenza di una mobilità presso una scuola per job shadowing però è anche importante proprio dettagliare il più possibile le competenze acquisite quindi uno degli strumenti più utili è proprio il certificato Europass perché prevede di declinare sia il programma della mobilità e le attività quindi ma anche le competenze che si mira a sviluppare con questa mobilità e il certificato viene firmato sia dalla persona che parte in mobilità sia dal tutor nella scuola d'invio sia dal tutor nella scuola di accoglienza quindi sicuramente è un ottimo strumento da utilizzare per le mobilità soprattutto per le mobilità individuale direi è importante utilizzarlo un altro modo di riconoscere i learning outcomes può essere quello di valorizzarli nell'ambito della scuola quindi se pensiamo una mobilità alunni ad esempio al rientro l'alunno può diventare l'ambasciatore Erasmus presso i compagni può raccontare la propria esperienza negli open day ma anche se si tratta di una scuola secondaria di primo o di secondo grado con esame di stato finale presentare l'esperienza Erasmus alla commissione d'esame ad esempio tutto cioè tutto quello che può essere fatto per valorizzare le competenze acquisite è sicuramente un modo di riconoscere le competenze oppure nell'ambito delle mobilità dello staff riconoscere la mobilità Erasmus nel momento in cui il dirigente affiderà degli incarichi non so se c'è un progetto STEM e i docenti che hanno fatto una mobilità STEM magari avranno la priorità per per vedersi affidare magari delle attività dei laboratori eccetera altra domanda visto che l'accreditamento è di sette anni la richiesta di budget deve fare riferimento al settennato no no la richiesta di budget non si fa per tutto un settennato ma si fa per periodi più brevi anche perché l'agenzia nazionale poi valuterà i risultati ottenuti per le successive per diciamo decidere quanti fondi garantire nelle successive richieste di budget faccio un esempio se ora lasciamo perdere che ci sono stati anche dei rallentamenti nelle mobilità a causa della pandemia però se io ho fatto una richiesta di budget per il primo biennio per il primo anno per fare 50 mobilità studenti e 20 mobilità docenti e poi alla fine del 2023 invece di 50 studenti ne ho fatti partire 10 sicuramente nella successiva richiesta di budget l'agenzia nazionale non mi darà altrettanti fondi ma mi darà meno perché io non ho saputo cioè il fatto di non spendere di risparmiare in ambito Erasmus è un difetto il fatto di riuscire a spendere tutti i fondi che gli ho chiesto invece è un sinonimo di qualità quindi nell'ambito del settennato le scuole verranno valutate su come sono state in grade di effettuare le attività che avevano previsto nella richiesta di accreditamento quindi periodicamente ci sarà una valutazione e allora la prossima domanda la mia scuola ha ricevuto l'avviso di presentazione del progetto che è stata in attesa della notifica dell'accreditamento nel modo da compilare per il 23 devo indicare il budget quindi dobbiamo avere presente il partner e dove effettuare la mobilità non è necessario aver già presente il partner però sicuramente è necessario aver presente quante mobilità io sono in grado di fare poi il partner eventualmente lo posso anche trovare dopo però diciamo devo fare una richiesta che sia coerente con le mie forze cioè non esagerare e chiedere troppo se poi non sono in grado di realizzare quelle mobilità quindi diciamo fare una valutazione su quante mobilità in effetti riuscirò a fare perché se se ne chiedono troppe poi non si fanno si danneggiano anche altre scuole che magari cioè i fondi a un certo punto finiscono quindi è bene chiedere quelli che effettivamente penso di essere in grado di utilizzare se si riceve accreditamento e i partner e le collaborazioni possono cambiare più volte all'anno sì sì certo le scuole con cui collaborare più facilmente di tutti si trovano sui twinning anche le altre scuole devono avere il finanziamento non è detto cioè se ce l'hanno meglio ma non è obbligatorio perché ad esempio una scuola potrebbe avere dei genitori o delle famiglie che non hanno problemi a pagare la mobilità per i loro figli e quindi potrebbero tranquillamente mettersi d'accordo con una scuola accreditata in Italia per fare uno scambio quindi no non è indispensabile che anche l'altra scuola sia accreditata per poter partecipare come docente bisogna che la scuola abbia l'accreditamento c'è in qualche modo la possibilità di trovare uno scambio in modo individuale no allora Erasmus ormai da quasi dieci anni non provvede più candidature individuali quindi l'unico modo per fare una mobilità Erasmus per un docente è che o la scuola in cui lavora sia accreditata o la scuola in cui lavora faccia una domanda per un progetto azione chiave 1 di breve durata non esistono più le candidature individuali ed è stata una scelta precisa dell'unione europea perché la candidatura individuale la mobilità individuale ha un impatto molto minore sull'organizzazione rispetto a una candidatura di istituto cioè quello che viene chiesto oggi alle scuole è di fare un piano di sviluppo europeo un piano di internazionalizzazione in modo che la mobilità non sia un fatto individuale ma abbia un impatto sulla comunità scolastica nel suo complesso e infatti anche nelle candidature si chiede sempre come si pensa di disseminare come si pensa di fare la disseminazione dei risultati come si pensa di valutare di garantire e valutare l'impatto Luisella ti risponderei alla prossima così tu respiri un attimo la domanda relativa al progetto quindi se il progetto è già stato fatto sui twinning cioè immagino se il tema è stato già trattato attraverso un progetto twinning se ha più possibilità di essere accettato come progetto Erasmus in realtà diciamo che non c'è un canale preferenziale in questo senso sicuramente l'utilizzo e la dimostrazione dell'utilizzo all'interno di un eventuale progetto Erasmus per cui si presenta candidatura della piattaforma twinning quindi delle modalità di comunicazione e di collaborazione a livello europeo costituisce diciamo un bonus vogliamo chiamarlo così Luisella non è sicuramente non mi fa guadagnare punteggio ma dà dimostrazione del fatto che si è all'interno dei meccanismi di collaborazione europei e quindi sicuramente è un offre vantaggi innanzitutto a chi lo ha fatto e poi al valutatore fa capire che quegli strumenti si sanno utilizzare in modo efficace assolutamente 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 e poi però naturalmente poi all'interno del progetto è opportuno diciamo articolare l'utilizzo della piattaforma twinning in che modo la utilizzo cosa faccio ad esempio quando noi abbiamo fatto il progetto Team for CLIL che Luisella ha scritto e a cui io ho partecipato come liceo Rosmini ed Aaron e Keystaff abbiamo utilizzato i twinning per la formazione dei docenti ma abbiamo ampiamente documentato diciamo è scritto a priori documentato poi in fondo in che modo la piattaforma è stata utilizzata quindi non soltanto dicendo per esempio utilizzerò i twinning esatto allora la prossima domanda è facile perché quando si tratta di un partenariato e quindi il progetto viene approvato per la scuola coordinatrice in automatico viene approvato per tutte le scuole del partenariato perché la valutazione del progetto la fa solo ed esclusivamente l'agenzia nazionale del paese coordinatore quindi se il coordinatore è italiano sarà l'agenzia indire a valutare il progetto se il coordinatore è spagnolo sarà l'agenzia nazionale spagnola e così via quindi se voi presentate un progetto come capofila sarà l'agenzia italiana a decidere se approvarlo oppure no e sarà approvato per tutti gli altri in automatico se il coordinatore è di un altro paese sarà l'agenzia nazionale di quel paese che valuterà il progetto e verrà poi approvato in automatico per tutti la richiesta di budget ha senso a fronte di un partner già pronto questa non la capisco la domanda nemmeno io la capisco magari vai avanti così magari il collega posso no non ho capito però la richiesta di budget è su quote forfettarie quindi sono quote standard quindi ad esempio se io faccio una mobilità che ne so per Dublino la quota per il volo sarà 275 euro e non cambierà sarà quella quindi se io ne spendo meno risparmio faccio economia e magari faccio una mobilità in più se quando compro i biglietti costano di più di 275 euro la scuola ci dovrà mettere cofinanziare il progetto e lo stesso per l'alloggio cioè per il supporto individuale sono quote standard sono 70 euro al giorno in genere per gli studenti e qualcosa come mi sembra 150 euro al giorno per i docenti allora se accreditamento per 7 anni prevede 50 mobilità per questa richiesta di budget posso chiedere 20 mobilità e poi negli anni successivi 20 e poi 10 se voi avete previsto in totale su 7 anni 50 mobilità le potete suddividere come volete voi quindi potete fare 20 mobilità l'anno prossimo quest'anno e poi chiedere le successive negli anni successivi quindi le potete scaglionare in modo da poterle effettuare come è più comodo per voi se nelle mobilità per corsi strutturati i corsi dovessero saltare a non essere confermati o cambiare date è un problema allora non è un grosso problema nella misura in cui trovo un altro corso e riesco a fare comunque la mobilità e anche se io diciamo aspetto ad acquistare il biglietto euro di essere sicuro che il corso non salti perché altrimenti se ho già acquistato il biglietto aereo è un po' un problema quindi o faccio cioè un'assicurazione anti-annullamento prima dei biglietti aerei però diciamo la flessibilità c'è quindi se io ho previsto di partecipare a dei corsi e i corsi non vengono fatti perché non raggiungono il numero minimo di iscritti posso cercare un altro corso mi sembra che c'è un'ultima domanda prendiamo questa ultima domanda ogni quanti anni va fatta vediamo e poi ok quella per l'accreditamento penso che non ti sento più ah scusami credo che vada fatta una volta concluso la parte di mobilità che avevate previsto nella precedente richiesta di accreditamento di solito io ho visto l'USR ad esempio ha fatto richiesta per un anno e adesso ora il 23 di febbraio farà richiesta per un altro per un'integrazione di budget quindi si può fare ogni anno e quindi hai risposto anche all'ultima domanda sì nell'ultima riga direi ok allora io chiuderei la condivisione eccoci eccoci qua allora io ti ringrazio davvero tanto perché hai fatto hai risposto a tutte queste domande le domande su questa questione sono sempre tante anche molto molto articolate quindi diciamo che probabilmente non saremo riusciti a rispondere a tutti i dubbi ma sicuramente a buona parte di essi grazie mille sia per la tua presentazione per la tua per il tuo essere sul pezzo sempre in modo così chiaro e vorrei ricordarvi prima di chiudere che noi ci ritroveremo prossimamente e cioè ci ritroveremo la prossima settimana per un nuovo incontro dedicato a detwinning in particolare noi ci ritroveremo il 15 di febbraio alle ore 17 sempre su questa piattaforma trovate se ancora non vi siete iscritti il link per iscrivervi cioè in realtà vi siete già iscritti perché se vi siete iscritti qui vi siete iscritti già eventualmente agli altri due ma troverete dicevo il link per accedere al webinar su su facebook noi abbiamo sia il canale facebook e tu in in toscana che il profilo su instagram se cercate informazioni sui seminari e sui webinar che organizziamo via via e poi ricordo anche in chiusura l'ultimo l'ultimo webinar quello della prossima settimana sarà tema e twinning per l'innovazione e avremo con noi Laura Maffei e Annalisa Di Piero che sono due altre ambasciatrici e twinning per la toscana e invece il 23 di febbraio chiudiamo questo tris di webinar con uno dal titolo come fare un buon progetto e twinning e diventare twinning school sempre alle 17 questa volta con Simone Bionda e Annalisa Di Piero Annalisa Di Piero già apparirà la settimana prossima Simone Bionda altro nostro valentissimo ambasciatore twinning io credo che siamo arrivati in fondo sono le 18 e 31 ringrazio te Luisella tantissimo grazie a te salutiamo tutti naturalmente vi ricordiamo che questa registrazione sarà appena possibile caricata sul canale youtube e twinning toscana grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie buonasera arrivederci buonasera grazie a tutti grazie a tutti